Episodio 27 del corso di Shopify, concludiamo finalmente la sezione delle impostazioni così possiamo tornare a lavorare su altro e guardiamo gli eventi del cliente, farò poi dei tutorial specifici lato marketing di questa cosa, perché? Perché abbiamo a che fare col pixel, il pixel, lato marketing e siti, si intende quella porzione di codice che va a tracciare il comportamento dell'utente. Ora, per chi sa già di marketing non è un problema quello che sto dicendo, ma per chi non lo sa non preoccupatevi perché per tracciare si intende capire se le persone quante volte mettono nel carrello cosa, quante volte vanno su determinate pagine, capite il comportamento che hanno sul nostro sito, quindi quello che ci interessa è capire, ah ma perché la maggior parte delle persone in questa pagina non va al di sotto della metà, dove magari ho dei prodotti interessanti, vuol dire che i miei prodotti più costosi devo metterli sopra? All'esempio, perché molte persone mettono questo particolare prodotto nel carrello ma poi si fermano? E allora, tutte queste cose qua bisogna capirle, mentre in un negozio fisico si possono analizzare queste cose, cioè lo vedo se i miei clienti entrano o non comprano o compran solo determinate cose, eccetera, qua invece siamo in digitale, quindi non possiamo registrare gli utenti, non possiamo sapere esattamente cosa fanno, l'unico modo è tramite i pixel capire più o meno i comportamenti sul sito. In realtà sono roba abbastanza precisa, però vedete che non possiamo guardarli direttamente da dietro sul pc o sul telefono mentre sono sul nostro store, non possiamo intervistarli spesso e volentieri. Di conseguenza si usano i pixel, che ripeto, è semplicemente codice che ci aiuta a tracciare il comportamento degli utenti. Quindi se io faccio aggiungi pixel personalizzato, abbiamo la possibilità di aggiungere il nome di un pixel, chiamiamo un attimo prova, io faccio prova, aggiungo pixel e da qua vedete che posso aggiungere del codice. Spesso e volentieri il pixel più famoso che potreste conoscere è quello di Facebook, quindi il pixel di Facebook barra meta per tracciare i comportamenti degli utenti e lo utilizziamo se facciamo sponsorizzate su Facebook, Instagram e quant'altro. Noi eliminiamo un attimo il pixel, tanto non lo stiamo facendo per davvero, voglio solo farvi vedere. E se faccio esplora app di pixel, ci apre un bellissimo articolo di Shopify, vedete? Ricava dati comportamentali sui clienti con le app, che è molto più bello, dati comportamentali rispetto a tracciamo i nostri clienti, i nostri utenti. E qua abbiamo una sorta di sottogruppi che ci suggeriscono un insieme di app in base a quello che vogliamo andare a tracciare. Ok? Quindi vedete MailChimp è per le mail, per fare email marketing, affiliate, influencer, ma ci sono veramente tante applicazioni, possiamo vederne altre, sono infinite. La cosa che però ci interessa, ad esempio se apro MailChimp o ne apriamo una qualsiasi, voglio far vedere che sta roba qua non arriva gratuitamente con poco, nel senso che abbiamo l'inizio basico, molto spesso, e poi abbiamo roba a pagamento. Proprio normalissimo, vedete? Oppure qua installazione gratuita, e poi per, abbiamo negozi con 100 vendite al mese o superiore, 25 centesimi per ogni ordine aggiuntivo. Quindi abbiamo di base 100 ordini gratuiti, e poi ogni ordine aggiuntivo 25 centesimi. Ok? Quindi vuol dire che ogni 4 ordini gli diamo un dollaro, quindi 98, 97 centesimi di euro. Dopodiché abbiamo 1000 al mese, 1000 ordini al mese, ta ta ta, e dentro abbiamo Google Tag Manager, Google Analytics 4, Facebook API, insomma c'è dentro un po' di roba, c'è il consenso per il GDPR, insomma tutta la parte di marketing che a un certo livello potrebbe interessarvi. Dico a un certo livello, perché? Perché fare queste spese al momento potrebbe non aver molto senso. Voi potete tranquillamente vendere, e avere un buon sito che vende, anche senza tracciare tutte queste cose. Tutte queste cose aggiuntive sono un extra per capire meglio cosa succede, capire meglio cosa fanno i vostri clienti. Ma non siete obbligati, perché avete visto che ogni applicazione, scusatemi, riapriamo, ogni applicazione di queste, e poniamo il caso che costa 20 dollari al mese, Apriamo una qualsiasi di questo gruppo, quindi questo gruppo è per le Analytics, vedete raccogli i dati affidabili, poi qua massimizza le conversioni, quindi ognuno di questo gruppo è per fare qualcosa in particolare. Qua raccogliamo i dati, ovviamente utilizzando Google Tag Manager o Analytics, poi qua sotto invece ci occupiamo di massimizzare le conversioni, qua sotto invece è per email marketing, altri tipi di marketing oltre il carrello, e poi abbiamo Crossell, quindi se noi volessimo fare, adesso vediamo, ho aperto tutte queste di un'unica categoria, vediamo, allora questo ci costa di base 150 al mese minimo, perché così è un salasso a 25 centesimi al pezzo. Questa qua invece è 749 dollari pagati una volta per sempre, e poi siete a posto. Andiamo avanti. Dopodiché abbiamo questo che costa 26 al mese, e poi qua sotto c'è 15 dollari per ogni 5.000 dollari tracciate, quindi vedete com'è, bisogna stare qua a fare le matematiche, capire, altrimenti è 249 al mese. Andiamo avanti. Qua abbiamo 111 al mese, quindi facciamo una media di 100 solo per tracciare. Ok, andiamo avanti. Prendiamo uno per massimizzare le conversioni, Prendiamo uno per fare email marketing, e ne prendiamo uno per fare upsell e crosssell, quindi eravamo tipo a 100 di media più all'anno, più o meno, quindi sono 1.000 all'anno, più 260 all'anno, più 13 che all'anno sono 150, quindi siamo 1.300 qualcosa, più, andiamo avanti, 5 euro al mese sono 60 all'anno, 1.360, facciamo finta che siano 1.360, oppure se non spegniamo 1.000 paghiamo quello da 700, sono comunque 900 euro, ok, dollari che poi euro sono leggermente meno, ma capite che se volete utilizzare tutta sta roba, tutte ste applicazioni, avete sì la versione gratuita, ma prima o poi eccederete tutte ste cose qua, se avete un business di un certo livello, quindi i costi salgono, potete cominciare gratis, però poi si paga. Ecco perché vi dico che all'inizio potrebbero non servirvi subito, a meno che avete già un negozio già lanciato, cioè fate già business, avete già altri e-commerce, oppure semplicemente avete altri negozi fisici, o avete già soldi di altre attività che volete mettere dentro, allora può aver senso, volete già partire alla grande, fare tutto subito, e volete agire in modo analitico, matematico, mi sta bene, non sono io a preoccuparmi per come utilizzate i vostri soldi, però io parto dalla persona, io penso nella mia testa, il ventenne che vuole cominciare, ok, a vendere qualcosa, eccetera, magari pochi soldi nel portafoglio da investire, tutta questa parte qua, al momento non è importante, però sapete adesso gli eventi cliente, sostanzialmente cosa sono, è tutta la parte marketing, ok, marketing sul sito, e fuori dal sito, ok, quindi questo è quanto, abbiamo visto anche questa parte, finalmente abbiamo finito, la zona delle impostazioni, noi andiamo avanti, perché prossimo video dobbiamo fare, il nostro primo ordine di test, ci vediamo tra poco.